Arriva la richiesta di notizie urgenti sulla vicenda che riguarda il rilascio dei visti per l'acquisto delle protesi all'ASP. Dopo la diffida dell'avvocato Annalisa Petitto, che riguardava dei presunti diritti negati, ovvero il rilascio delle protesi per i più deboli, numerose famiglie si erano lamentate di attendere da mesi l'esito delle richieste di acquisto delle protesi per i loro cari disabili, ma non solo protesi, anche di strumentazione riabilitativa. Ritardi surdi tardi e adesso arriva la richiesta di chiarimento da parte della regione siciliana dell'assessorato alla salute. La nota indirizzata al direttore generale, che ora dovrà dare una risposta, è firmata dal numero uno dell'assessorato, il dirigente generale Mario Rarocca. Si richiedono urgenti notizie, visto i disservizi segnalati, si legge nel documento.